Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video in cui ho comprato un aereo, cioè in realtà questo è il secondo episodio. Come sapete la settimana scorsa è uscito un video che raccontava un po' la storia dell'acquisto del mio primo aereo. Vi saranno rimaste tantissime domande e siamo qua in questo video per dargli una risposta, quindi mai dettemi comodi e cominciamo. Cominciamo dall'inizio, non proprio questo inizio ma l'inizio di questo canale due anni fa. Dopo sette anni che ero su YouTube a parlare di making e tecnologia, ho deciso di intraprendere il percorso per diventare pilota di aereo. Prima il PPL, poi convertito in VDS, ho volato parecchio principalmente sugli ultraleggeri che hanno un costo minore, questo lo sapete se seguite il canale. Arriviamo alla primavera 2023 quando dico me stesso, è giunto il momento di avere un aereo. Perché essenzialmente il mio lavoro è di fare i video per voi e avere un aereo di proprietà cambia infinitamente rispetto a doverlo affittare, chiedere o scroccare ogni volta. Perché, boh, è come avere una macchina tua parcheggiata in garage o doverti sempre affidare alle evaie e quei servizi di sharing. Con gli aerei è un po' la stessa cosa, a parte i costi, dei quali parleremo nel prossimo video, ma anche a livello pratico, organizzativo, poter decidere all'ultimo momento se andare a fare un volo, un viaggio più lungo, più corto, se rimanere fuori la notte. Addirittura non tutti i club permettono proprio che i loro aerei restino fuori la notte. Tipo ero club di Varese che è dove ho fatto il PPL e io mi ricordo che non potevi, c'era il coprifuoco, 4 del pomeriggio tipo d'inverno e niente. Però anche quando puoi tenere fuori l'aereo la notte perché ti ha consentito, però magari devi star via un weekend e c'è un socio che ha prenotato un'ora la domenica mattina e anche se l'aereo era libero tutto il sabato, tutta la domenica c'è quello che ha prenotato l'ora e allora gli chiedi puoi spostare, è sempre un casino. E dovendo e volendo volare tanto per voi, per farvi contenuti belli, abbiamo già sorvolato le Alpi, nevate e l'Italia dal nord a sud, ma questo è niente ancora con un aereo, col Vimana potremmo andare ovunque in tutta Europa, raccontare un sacco di storie, vedere un sacco di posti, quindi questa è la motivazione. Detto questo mi metto a cercare un aereo? Dove si cercano gli aerei? Boh ci sono i siti online come per le macchine e con il budget limitato che oggettivamente posso avere, trovo questo savannino molto vecchio, però era super carino, giallo con il nasone rosso, che però mi compra un altro tizio che era arrivato prima di me e poi comunque scopro la posteriore che aveva subito dei danni, che era un savanna slat e gli slat ce li hanno fissi, vuol dire che anche in crociera va lentissimo, non lo porti più di 145, non so quanto vadano, sarebbe stato un disastro per quello. Contemporaneamente però i miei amici di Castelnuovo da un bosco, in particolare Giacomo che non hanno mazza da fare e stare lì tutto il giorno, e Alfiere che è vicino di Angaro, nel senso era proprio angarato il suo aereo a fianco a questo Vimana rosso, dicono ma sai che c'è quel Vimana che probabilmente se chiedi cose varie, and that's how I met your mother. Sì, essenzialmente è andata così. E che aereo è il Vimana? L'ho un po' accennato nel primo video attraverso i racconti di Davide che l'ha disegnato tutto, questo aereo, o meglio ha disegnato la fusoliera, l'ha disegnata un'altra persona. Comunque è un aereo di ICP, l'azienda italiana di ultraleggeri che produce anche il Savanna e il Ventura, che nasce, boh, negli anni 2006, 2005, in quegli anni là. Nasce in un'epoca in cui gli ultraleggeri costavano veramente poco, i Savanna costavano veramente poco. Quando Savanna costava 30.000 euro lui costa 70.000. Il Vimana invece nasce come progetto ambizioso, linee molto più arrotondate, un'ala sottile rastremata che ha spesso letteralmente come il piano di coda di un Ventura. Niente flapperoni, invece alettoni e flap separati, e non solo i flap ma anche gli slat, che sono piuttosto rari sugli aerei, slat attuati elettricamente che vanno assieme ai flap, quindi hai un solo controllo, niente sbatti a dover pensare a due robe separate. Estendendo i flap, lo stesso motore con un gioco di braccetti estende anche gli slat, è una bomba. Poi i flap sono Fowler con doppia letta, sembra un aereo di linea come tecnologie. È molto molto più arrotondato agli altri aereo di ICP. Il mio monta anche un'elica a passo variabile, variabile in volo, non giri costanti però a passo variabile, quindi comunque hai il controllo del pitch. Ed è proprio una bomba di aereo, talmente una bomba che gli costava un botto produrlo, questi costi ovviamente si ripercuotevano sul prezzo finale del prodotto, e quindi nessuno lo comprava essenzialmente. E dopo qualche anno non ho smesso di produrlo. Ne sono stati fatti poco più di una trentina, mi sembra 34 o 35. Poi qualcuno è andato distrutto negli anni, un po' sono finiti all'estero, quindi ad oggi in Italia ne rimangono veramente pochissimi. È un aereo che sa volare relativamente lento, perché arriva dall'azienda che fa i savanna, che sono delle cavolo di mongolfiere, puoi tenerli fermi e loro stanno per aria comunque, agli slat, comunque sa volare bene lento, però con quella alla sottile e rastremata che si trova, sa volare molto veloce. In crociera da solo faccio i 195 km all'ora, come vedrete presto nei tanti video di volo che ho già registrato, e quindi era l'aereo perfetto. E niente, quindi fast forward lo compro, primi giorni, andavo a Castel Nuovo senza volarci, non ci ho volato tipo per un mese e mezzo da quando l'ho comprato, forse anche di più. Ma una delle prime cose che ho fatto è stata lavarlo. poverino volava pochissimo. Il presidente proprietario aveva fatto tipo 10 ore in due anni. No, sto esagerando, ma non di tantissimo. Era sempre lì fermo in hangar, poverino quest'aereo, perché senza scendere troppo nei dettagli, il presidente proprietario l'aveva preso per la propria passione per il volo, poi le cose sono cambiate, sono nati nipotini, preferiva passare tempo con la famiglia, e quindi l'aereo non volava mai. Quindi nonostante sia del 2008, a poche ore su, sulle 850, fatte quasi tutte dal primo proprietario, e da me. E niente, come funziona un passaggio di proprietà? Vabbè, ci sono un tot di carte da compilare, si manda tutto all'Aeroclub d'Italia, e poi si aspettano otto mesi che loro registrino le loro carte con i tempi di Aeroclub d'Italia. Salutiamo i nostri amici di Via Beccaria. Gli ho telefonato ad agosto per sapere a che punto fosse il mio passaggio di proprietà, e mi hanno detto che stavano evadendo le pratiche di marzo. Vabbè, comunque passaggio di proprietà a parte, e cose secondarie tipo affitto dell'hangar a parte, cioè il posto hangar, ho preferito, anzi ovviamente non potevo, volare finché non avessi convertito la polizia assicurativa, l'assicurazione e la responsabilità civile a mio nome. Quindi vabbè, nel mese e mezzo successivo, a parte che sono stato via, a parte che era estate, ho fatto un po' di preventivi, un po' di cose, ho recuperato l'assicurazione, e più o meno quindi questa è la storia del Vimana, questa è la storia di come ne sono venute in possesso. Cosa ci aspetta da qua in poi? Vabbè, un video sui soldi ve lo devo, sapete che non sono un fan del tabù dei soldi, di non parlarne, vi ho raccontato per fila e per segno quanto è costato fare la licenza di pilota privato, il PPL, parleremo molto dettagliatamente anche dell'aereo, ma ci sarà un video dedicato, così ne parliamo con calma, e per il resto voliamo, facciamo cose belle, viaggi, portiamo in volo amici, di tutto e di più. Signori, pollice in su per il Vimana, per questo grande passo del canale Marco Romboli, siamo quasi a 100.000 iscritti tra l'altro, cioè quasi, in realtà abbiamo passato i 70.000, però, oh my god, su Overvolta ci ho messo tipo 6 anni a fare 100.000 iscritti, forse 7 anni, e invece con Marco Romboli i video vi stanno piacendo talmente tanto, probabilmente che condividete all'infinito con i vostri amici, e io sono contentissimo. Signori, ci vediamo con tantissimi video di volo, oltre ai video storici, che vi piacciono tanto anche quelli, ma per questo video di oggi purtroppo è tutto, pollice in su al video se il video vi è piaciuto, un pollice in su per il Vimana! Ciao a tutti!